Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo su Call of Duty Ghost Eeeh, ho deciso, non faccio mai un video gioco per play, allora volevo farlo insieme a voi Ma... Guardate, una keycard, non è vero Insomma, è sempre una carta Eeeh, volevo fare per adesso un po' di partita locale Ok Ma poi, allora, alleati, mettiamo 3 perchè noi siamo più 1, ovviamente fa 4 Poi, mettiamo 4 nemici, con questa difficoltà Questo è il nostro tizio Ora, aspettate un secondo Sicuramente è da fastidio anche per play, però perchè si vede forse il riflesso della finestra Non va bene Mi salvo se vuoi Ragazzi vi da fastidio, non so, se vi da fastidio è vero perchè c'è questa cosa, c'è questa cosa fastidiosa Pazienza, vediamo se possiamo riuscire a giocare anche così Avviamo la partita Siamo su Datomatch a squadra in questa mappa bellissima Noi sceglieremo come faccio sempre io Ghost Scusate ho fatto cadere il telefono Fatemi vedere se... Eeeh, sì Fortuna Mi posso ingrandire lo schermo Bene Ghost Noi sceglieremo il personale Vediamo... io voglio prendere questo Abbiamo questa bellissima pompa Aspettiamo che metta a fuoco, ok E poi c'è anche questa mitraglia Aspetta? ARX-160 Ok E questo si chiama TAC-12 personalizzato Vabbè personalizzato perchè l'abbiamo fatto Non è un'importanza, ok Andiamo a cercare un po' di nemici Aspettate, aspettate C'è qualcuno qua Lo uccidiamo Boss, io ci sparo perchè Se questo qua mi ammazza gli alleati ragazzi Non va bene Uèh Eeeh Non si fa Eh Ti umilio Ciao Ciao Il mio amico Uèh Dietro di noi Dietro di noi L'abbiamo amata Ragazzi secondo me questa è una di quelle giornate Tutta come si dice? Ecco Una di quelle giornate in cui io gioco mi viene benissimo giocare Cioè per forza perchè sto andando benissimo Guardate guardate Qui Oh Cioè per Sto Petro di Vissi a sembra che E' sempre? E' sempre? E' sempre? E' sempre? C'è vera detta questa frase? Bu, si deja vu, guarda, ditevi se c'è qualcuno vuoi che io non avevo visto. Se magari uno, mamma, se mi dito vero, perchè, su vede. Penso che volevo stare piattendo così, provo a incontro, che stai scentillissimo, va. Tu stai tanto in pissa, duro, madonna, ragazzi, la vista è di prima, aspetta. Allora, qui c'è questa cosa, ma è importante, io credo fosse una missià. Qui c'è il nostro amico, io guardo l'amico, c'è un amico, guarda, uè, sì, vabbè, ma 30 kg di seguito, io non devo parlare, perché quando parlo? c'è un amico, ogni volta muoio. Ora c'è un amico, perché dovete sapere che con questo bombo praticamente sono imbattibile. C'è l'arma che mi rende più forte. Mentre ci buttiamo pure dal balcone. Settate, guardate, abbiamo fatto cadere l'albero, ora abbiamo un piccolo ponte di Brooklyn. Missione, uccidi due nemici a covacciato. Noi amico ci riesco ad ammazzare due da... Sì, uno è morto. Due. Ok. Ce l'abbiamo fatta! ci siamo riusciti. Eh, va bene. Ah, no, niente. Ok. Dobbiamo trovare il pacco, perché se moriamo il pacco se lo possono fregare. Eccolo qua sto maledetto. Ho il cane! Ok, dai ragazzi andiamo, andiamo! Correte, corri, corri, corri cane, corri! Sto cane è un bro. Perfetto, no, no, no! Ammazzalo cane! Il cane l'ho ammazzato! Come cane ha battuto! Ragazzi, mi hanno ammazzato il cane. Un attimo! Sentate che sta... Scusate, c'era un po' che non mi chiamava. Eh, un attimo. è ucciso. Ragazzi, questo mi so sarà un lungo gameplay. Va bene. Ma sei stato? Ragazzi, in solito non potevo continuare per lungo, quindi facciamo l'ultima testa. uccisione. Eh, niente. E poi ci vediamo al prossimo video. Bene, abbiamo fatto l'ultima uccisione. Termineremo la partita. Bene. Spero che il play vi sia piaciuto. Ci vediamo! Pfff, va al prossimo video! Ciao! Ciao! Ciao ciao! Grazie.